Eccoci qui amici di Calcio Napoli 24, buon pomeriggio, un saluto da Fabio Cannavo, come vedete noi ci troviamo nella struttura d'allenamento del Firenord a pochi metri dal Decaip, stadio dove domani si sfideranno il Firenord e gli azzurri di Maurizio Sarri. La notizia del giorno però è il rinnovo di Fosigulam, quindi il rinnovo fino al 2022 per il terzino al Gerino, De Laurentiis l'ha annunciato tramite un suo tweet e quindi insomma è cominciata così la vigilia di Firenord Napoli, vi ricordo che adesso andremo con le immagini sulla squadra di Giovanni Van Broncos che si sta apprestando a svolgere la rifinitura in vista della partita di domani sera al Decaip tra Firenord e gli azzurri. Più tardi arriverà la squadra di Maurizio Sarri proprio in hotel e noi l'accoglieremo e poi vi forniremo anche le conferenze stampa sia di Giovanni Van Broncos che del tecnico del Napoli. Non ci sarà Lorenzo Insigne che non compare tra i convocati ma potrebbe esserci una chance per Vlad Kirikesh che potrebbe cominciare dal primo minuto in difesa al centro al fianco di Albiol con Cristian Maggio sull'out di destra e Elsed Yusai a sinistra. Centrocampo con Diavara con Diavara regista ai lati dovrebbe esserci ancora Marek Kamsik e uno tra Alan e Marco Rog. In attacco quindi complice anche l'assenza di Lorenzo Insigne da quelle parti giocherà Piotr Zienischi che nelle ultime occasioni ha dimostrato di sapersi fare sull'out di sinistra in posizione di esterno alto al fianco di Dries Mertens e Kayekon. Quindi dicevamo il Feyenoord dovrebbe scendere in campo a specchio con un 4-3-3 in porta ci sarà Jones sugli esterni l'ex Fiorentina Dix e Nelom in difesa Van Beek al fianco di Tapia. A centrocampo Orfani di El Amadi ci sarà Tonstra nel vertice basso di centrocampo mentre sulle fasce ci saranno Amrabat che ancora in dubbio insieme a Vigena. In attacco Bergais, Larsson è il centravanti di riferimento del Feyenoord che vale a dire Jorgensen punta di diamante del club olandese che in campionato non sta proprio andando alla grande perché è quinto. Hanno perso uno scontro diretto contro l'Utrecht proprio ultimamente per cui stiamo parlando di una squadra che di certo si concentrerà molto di più sulle redivise che sulla Champions League anche perché lo ricordiamo il Feyenoord non potrà nemmeno avere possibilità di qualificarsi per il terzo posto e vale a dire l'Europa League quindi proprio qui sul campo del Feyenoord parlavamo e scambiavamo qualche chiacchiera con colleghi olandesi che insomma ci parlavano di una squadra che molto molto probabilmente insomma domani per il Napoli dovrebbe essere abbastanza facile perché la testa di questi calciatori è concentrata prima di tutto sul campionato. Lo dicevamo ne parlavamo prima Fosigulam rinnovo fino al 2022 stato annunciato e ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis attraverso un tweet quindi foto di rito con il calciatore e quindi la firma. Dicevamo non ci sarà domani Lorenzo Insigne intanto saluto i tantissimi nostri lettori che ci stanno seguendo dicevamo domani non ci sarà Lorenzo Insigne perché perché non è convocato e quindi saluto Nicola D'Eredità, Dante Federico saluto insomma tutti anche Agnello Vitaloga che dice sempre unici Forza Napoli Forza Napoletani da Pippo Somma, Mission Impossible scrive Luca Livotto beh caro Luca secondo me non si tratterà proprio di una Mission Impossible anche perché se dovesse ieri Guardiola è stato molto chiaro ha detto faremo per il Napoli una partita importante perché perché vorremmo insomma consentire lo svolgimento regolare del passaggio del girone e quindi insomma un saluto a Carmelo Menniti da Prato dal club Napoli Prato poi Giulio Santillo scrive con Diavara abbiamo sempre perso Forza Napoli sì è vero però insomma Maurizio Sarri sta cercando anche di ruotare l'organico che ha a sua disposizione per far sì che si finisca nel migliore dei modi questo quest'anno solare andiamo avanti De Guardiola scrive Salvatore Iorio e beh certo la qualificazione del Napoli dipenderà soprattutto dalle sorti della partita tra Manchester City e lo Shakhtar Donetsk che si giocherà a Kharkiv in Ucraina comunque a parte gli scherzi da Juventino scrive Nicola D'Eredità spero che il Napoli si qualifichi e questo è un messaggio che noi abbiamo il piacere di riportare Anna Maria Vassalluzzi scrive noi ci crediamo beh io cara Anna Maria devo dirti che sono molto fiducioso anche perché se davvero domani il Feyenoord dovesse scendere in campo con la testa più sul campionato per il Napoli non dovrebbero esserci poi grossi problemi sarà complice sicuramente l'assenza molto importante l'assenza di Lorenzo Insigne che lo ricordiamo si è allenato ha svolto lavoro differenziato quindi non ha partecipato alla rifinitura insieme al gruppo di Maurizio Sarri per un piccolo problema al pub quindi andiamo ancora dai nostri lettori Giuseppe Salatiello si scrive giocherà un ass un ass è una chance a gara in corso anche perché Sarri è stato molto diretto quando gli hanno chiesto di lui nell'ultima conferenza stampa e che quindi insomma solitamente un ass può essere un calciatore utile a gara in corso un po' per per scardinare le difese avversarie anche come è accaduto nell'ultimo match contro la Juventus comunque vada io ci sarò scrive Dario Federico bene caro Dario noi ti aspettiamo intanto vi ricordiamo che alle ore 17.30 circa arriverà il Napoli qui a Rotterdam e noi vi mostreremo in diretta le immagini live direttamente dall'hotel dove alloggeranno gli azzurri e poi subito dopo ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri prima quella di Giovanni Van Bronkost e poi quella di Maurizio Sarri che insieme al nostro Pasquale Cacciola che intanto io vi faccio anche salutare salve a tutti c'è anche Pasquale Cacciola che insomma vi fornirà tutte le informazioni relative alle due conferenze ci sarà anche Emiliano Carrillo il nostro cameraman che sta arrivando proprio qui al Decaip e dopodiché insomma saremo pronti per potervi illustrare quello che è uno dei match più importanti della stagione perché il passaggio del girone per il Napoli vorrebbe dire 15 milioni di euro mentre invece se il Napoli dovesse approdare soltanto in Europa League il bottino d'incasso sarebbe di quota circa 500.000 euro senza insigni farei giocare Giaccherini un giocatore come lui non può non essere considerato sono d'accordo Antonino sono d'accordo con te mi saluti mia figlia Flavia che tifa Napoli certo Carmelo Minniti poi Giovanni De Simone i rincalzi del City sono più forti dello Shakhtar e certo forse è convinto anche Pep Guardiola di questo messaggio perché anche egli è davvero fiducioso riguardo il match di stasera Giaccherini ci sarà Grande Felix ci scrive Giaccherini di certo è partito con il Napoli chissà che però domani non possa esserci però Piotr Zienischi dal primo minuto nel ruolo di Lorenzo Insigne Zili al posto di Lorenzo scrive Roberto Deustacchio bene così e poi Paolo Coppola scrive buonasera e forza Napoli vi assicuro che qui la temperatura è davvero molto bassa ci saranno circa due gradi non so se Pasquale mi sa confermare questa informazione purtroppo sì purtroppo sì ci stiamo congelando però siamo qui a due passi dalla squadra di Giovanni Van Bronco si ricordiamo ex terzino olandese del Barcellona e dell'Arsenal quindi stiamo parlando di un calciatore che ha un vissuto molto molto importante a livello internazionale ad oggi è l'allenatore del Feyenoord e San Paolo ha già perso con il suo club chissà che domani non voglia rifarsi della sconfitta precedente ricevuta proprio sul terreno di gioco di fuori grotta ricordiamo l'assenza molto molto importante quella di Elamadi il capitano del Feyenoord che insieme a Botteghini e Adaps resteranno ai box per infortunio e quindi ricordiamo il probabile 11 scelto da Giovanni Van Bronco per il match di domani con Jones tra i pali Dix ex Fiorentina sulla fascia destra e Nelom dall'altro dall'altro lato in difesa al centro dovrebbero esserci Van Beck insieme a Tapia a centrocampo quindi davanti alla difesa ci sarà Tonstra con Villena ed Amrabat come interni di centrocampo sugli esterni in attacco invece ci saranno Larsson da una parte e Bergeus dall'altra con il rientrante Jorgensen che fu assente nel match d'andata allo stadio San Paolo quindi al centro dell'attacco adesso noi ci stiamo stiamo provando purtroppo la squadra del Feyenoord si è allontanata dalla postazione che ci è stata concessa per poter riprendere però insomma continuiamo dandovi la forla probabile formazione del Napoli che domani sera scendere in campo alle 20.45 per l'ultimo match del girone contro il Feyenoord con Pepe Reina tra i pali dovrebbe esserci Cristian Maggio sull'auto di destra mentre dall'altro lato turno di riposo per Mario Rui ci sarà Elsa Di Usai al centro al Biol e probabilmente verrà data una chance anche a Vlad Kirikesh dal primo centrocampo con Amadou Di Avarà al posto di Giorginio dovrebbe esserci anche Mare Kamsik e chissà che insomma Sarri non scelga Marco Rog anziché Allan dal primo minuto questa è una scelta che di certo riguarderà gli ultimi minuti noi intanto ci spostiamo ci spostiamo Pasquale cerca sempre di guardare il campo magari ecco intanto andiamo a esatto esatto allora dicevamo con in attacco al posto di Lorenzo Insigne ci sarà Piotr Zielinski con Kayekon sull'auto di destra e al centro Dries Mertens e insomma qui ancora dal campo adacente al De Kaip noi adesso stiamo provando a raggiungere in maniera quanto più celere possibile il campo il campetto ecco intanto salutiamo anche colleghi olandesi che sono qui a congelarsi insieme a noi per questa rifinitura dicevamo adesso siamo siamo rientrati ecco questo è Pasquale questo che dove siamo praticamente ci stiamo allontanando dal campo stiamo andando fuori e qui insomma non è proprio il massimo della bellezza lo possiamo dire tranquillamente e poi fa molto freddo perché lo ricordiamo ci sono circa due gradi se non di meno e quindi questa è una cosa che di certo non mette paura però ai tanti tifosi del Napoli che dovrebbero essere circa 1500 alcuni già anche sprovvisti di tagliando per il De Kaip e quindi per lo stadio e però a differenza della gara d'andata Pasquale è stato concesso al Firenord la possibilità al Napoli la possibilità di venire qui in Olanda con i propri tifosi sì e per questo l'allerta è massima perché comunque si teme fortemente un contatto uno scontro quindi inevitabilmente insomma bisogna prestare attenzione infatti comunque le forze dell'ordine sono attive particolarmente attive e già quest'oggi lo inizieremo a vedere senz'altro dicevamo più tardi vi forniremo le conferenze video sia di Giovanni Van Bronkost che quella di Maurizio Sarri che potrà di certo chiarirci la situazione relativa a Lorenzo Insigne che noi ve l'abbiamo già detto è stato vittima di un leggero affaticamento fisico per cui non ci sarà non è stato convocato per la partita di domani sera al suo posto dovrebbe esserci proprio Piotr Zieninski e non Emanuele Giaccherini o Adam Unas ecco adesso ci stiamo trasferendo all'altro all'altro campo questa è una struttura con ben 5 campi di allenamento dove il Feyenoord verrà viene ad allenarsi con tutto il settore giovanile tra l'altro altra novità domani Calcio Napoli 24 vi proporrà la diretta testuale della partita di Youth League quindi tra il Feyenoord e la primavera del Feyenoord e quella dei azzurri di mister Loris Beoni ricordiamo anche la partita di domani dei giovani azzurrini sarà decisiva quella del Manchester City contro lo Shakhtar perché praticamente la situazione è quasi la stessa rispetto a quella dei calciatori di Maurizio Sarri adesso ci stiamo avvicinando adesso siamo a pochi passi dai tre portieri del Feyenoord eccoli qui adesso siamo pronti eccoli qui e intanto Maurizio Salvi ci scrive spero di vedere Giaccherini dal primo minuto caro Maurizio credo che possa essere una speranza che non verrà soddisfatta da Maurizio Sarri perché l'idea ad oggi è quella di affidarsi a Piotr Zininski nonostante il ruolo sia molto più vicino ad Emanuele Giaccherini perché lo ricordiamo Lorenzo Insigne non è stato convocato per la partita di domani sera molto probabilmente salterà anche il match con la Fiorentina a San Paolo di domenica pomeriggio alle ore 15 e Roberto ci chiede se la situazione è grave al momento ha un problema al pub per cui si teme è un stop minimo e quindi la situazione non è di certo grave andiamo avanti diciamo che l'unico certo assente per la squadra di Giovanni Van Bronkost è proprio il capitano e la Madi al suo posto dovrebbe essere scelto Tonstra con Vigena e Amrabat che è ancora in dubbio ma insomma le sta provando tutte per esserci domani sera per fare bella figura davanti al proprio pubblico nonostante il match non abbia più un certo appeal perché ricordiamo che il Feyenoord è già fuori sia dalla Champions che dall'Europa League non ha alcuna chance di potersi qualificare per cui la squadra di Giovanni Van Bronkost è molto concentrata sul campionato perché la situazione è abbastanza critica ad oggi sono quinti in campionato hanno perso uno scontro diretto contro l'Utrecht pochi giorni fa e quindi insomma la squadra del tecnico olandese lo ricordiamo ha giocato con le maglie di Barcellona ed Arsenal è concentrata sul campionato però ovviamente bisogna stare attenti perché certi match europei possono nascondere delle insidie in ogni momento della partita adesso siamo insieme al nostro Pasquale Cacciola e Fabio Cannavo ci troviamo praticamente sul campo adiacente al Decaip vale a dire lo stadio del Feyenoord ci sono c'è una struttura che comprende cinque o sei addirittura campi di allenamento dove domani giocherà anche la primavera di Loris Beoni alle ore sedici e noi ve la racconteremo in diretta proprio qui da Rotterdam dicevamo ultimi minuti concessi qui per la stampa per farvi vedere le immagini della rifinitura della squadra del Feyenoord Unass se non ora allora quando scrive Giovanni De Simone però forse Unass sarebbe stato meglio secondo me caro Giovanni farlo giocare in partite di campionato magari al San Paolo e quindi non buttarlo nella mischia in una partita così delicata come quella di domani di certo le chance per Unass sarebbero dovute essere qualcuna in più perché stiamo parlando di un calciatore che è stato pagato 10 milioni di euro e che di certo noi ci chiediamo insomma di certo non avrebbe potuto fare una bruttissima figura contro squadre di calibro inferiore per dire il Cagliari il Benevento l'Udinese squadre che il Napoli ha già affrontato in campionato e che dopo la mezz'ora quando il Napoli aveva già dilagato contro certe compagini potevamo certo vedere anche il nome di Unass tra quelli che erano in campo peccato che Insigne non giochi spero che non sia niente di grave Giovanni Stango è il suo messaggio chi gioca al posto di Insigne ci sarà Piotr Zenischi dal primo minuto almeno di colpi di scena perché sappiamo bene quanto Sarri a volte insomma Allegri ultimamente ha detto Sarri mi confonde beh insomma caro Allegri tu non sai quanto Sarri confonde a noi quando si tratta di doverci suggerire la probabile formazione del Napoli perché in diverse circostanze insomma ci ha spiazzato con delle scelte abbastanza insolite dell'ultima ora domani non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti lo ripetiamo dovrebbe esserci Pepereina tra i pali non ci sarà però Mario Rui ci sarà Cristian Maggio quindi il capitano del Napoli sull'auto di destra con lo spostamento di Elze degli Usai a sinistra in difesa Chance per Vlad Kirikesh dal primo minuto insieme a Raul Albiol centrocampo non ci sarà invece Giorginio bensì Amadou Diavara ai suoi lati giocheranno Amsic e uno tra la Neroog con Zielinski che invece prenderà il posto di Lorenzo Insigne sulla fascia sinistra in attacco quindi insomma ecco adesso stiamo andando sui tre portieri del è finito allora è finito è finito è finito allora adesso mi vedete un pochino imbacuccato perché purtroppo la temperatura dobbiamo andare via proprio ci stanno cacciando letteralmente in tutti i sensi allora un saluto mi raccomando ci ritroviamo alle ore 17 per la conferenza di Giovanni Vrambronco dal Decaip insieme al nostro Pasquale Cacciola io invece raggiungerò l'arrivo del Napoli presso l'hotel l'hotel dove alloggeranno gli azzurri dopodiché conferenza stampa di Maurizio Sarri e poi l'appuntamento a domani con Firenord Napoli e Calcio Napoli 24 ciao